Allora siamo qui nel secondo video dove parliamo di Kandinsky. Abbiamo visto l'altra volta l'arte astratta e il padre dell'arte astratta è considerato Kandinsky. Kandinsky che nasce nel 1866, quindi arriverà a concepire l'astratismo, abbiamo visto il 1910, quindi in età non proprio giovanissima. Aveva già 50 anni. No, 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 46, 40, 44, va bene. Beh, voi lo conoscete Kandinsky? Qualcosa, sì, a me piace. Interessante. È uno di quelli che mi piacciono, ecco. Beh, è uno diciamo dei personaggi forse più rigorosi, perché è diventato così importante, a parte perché è considerato l'iniziatore, anche se abbiamo visto che non è esattamente così, però è considerato a buon diritto l'iniziatore di una delle rivoluzioni nella pittura, cioè quello di abbandonare la figurazione. Ma, oltretutto, lui era un grande teorico poi. Ricordiamo che Kandinsky scrive due libri in cui lui ha tutta la sua teoria, una teoria molto rigorosa, anche se i libri poi non sono facilissimi da seguire, sono in parte anche un po' confusi, però lì dentro ci troviamo tutto lo spirito della sua rivoluzione. E allora è interessante vedere alcune tappe importanti della sua biografia in cui andiamo a capire da cosa nasce anche questa rivoluzione. Allora, abbiamo detto, intanto Kandinsky è russo, quindi... Già a me è troppo simpatico, è russo. È stato poco, da bambino è andato via, però è stato tanto, è rimasto legato alla sua nazione comunque. Sì, lui, vabbè... Ma solo non lo capisco perché. Beh, lui intanto era molto affascinato dalla cultura, dalla sua cultura russa. Ma nonostante l'avessero portato via bambino da lì? No, vabbè, ma lui è tornato più volte, intanto è stato un grande viaggiatore, per cui lui ha viaggiato per tutta Europa. Quindi già aveva i sogni. Beh, era di una famiglia, sì, agiata, una famiglia sicuramente agiata. Lui va a Parigi e poi si stabilisce a Monaco invece, a Monaco di Baviera, quindi in Germania, è lì che fa la sua maturazione artistica. E lui continuerà, finché non approda alla rivoluzione astrattista, lui continua a mantenere viva il suo legame con la Russia. E i primi quadri che noi vediamo, che sono intorno al 1906, 1907, sono quadri abbastanza figurativi. Quindi sono quadri figurativi, in cui però troviamo delle influenze che lui aveva avuto sia dall'impressionismo, in particolare da Monet. Lui quando va a vedere la mostra di Monet e vede già da lontano i covoni di Monet, in cui c'era il trattamento del colore particolare, perché i colori di Monet non sono i colori naturali, ma sono sempre trasporti. Vuol dire? E vuol dire che vengono trasformati in funzione di una maggiore efficacia, quindi non all'aderenza alla realtà, ma all'efficacia con cui si deve arrivare. Per termine giusto, rarifatti? Rarifatti è giusto per alcuni quadri, non tanto per i covoni invece. Dove lì c'è, ad esempio, le ombre dei covoni sono blu. Perché sono blu le ombre dei covoni? Perché i covoni sono gialli. E allora il giallo con il blu sono due colori complementari. Ah, ma sceglie due, no? Sì, sì, sono scelti... Ci devi spiegare per capire. No, questo è quello che ha colpito, cioè sì, funzionava così. Perché io gli ho visti i covoni e la spiegazione, però non avevo colpito questa cosa qua. Beh, ti sarai accorta che non sono i colori naturali di un paesaggio di campagna. Ma anche nella scelta dei colori, non sono i colori giusti. Sono gialli, buoni, gialli. Però le ombre sono blu e non c'è nessun motivo per cui l'ombra deve essere blu, no? Invece era perché c'era una scelta precisa per mettere in relazione due forme con due colori che comunque avevano qualcosa, cioè si parlavano, no? E allora questa cosa colpisce molto Kandinsky e incomincia a fare le sue riflessioni. Dopodiché Kandinsky è anche un discreto musicista, suonava il violoncello e rimane molto impressionato da un particolare concerto che lui sente di Wagner. e la musica di Wagner lo porta a fare altre riflessioni su quella che sta, la sua maturazione artistica che sta crescendo. Dopodiché lui arriva a un certo punto, diventa intanto amico di Schoenberg. Schoenberg sappiamo che è il musicista che fa una vera e propria rivoluzione in campo musicale, cioè l'abbandono della tonalità. Dissonanza. Introduce non tanto la dissonanza quanto la musica atonale, vuol dire che non c'è più un centro tonale che fa da perno alla struttura musicale, ma qualsiasi nota ha la stessa dignità, ha lo stesso valore, diciamo, la stessa importanza. Non si capisce niente con il suono. E quindi è un tipo di sonorità che noi non siamo abituati. Noi se siamo abituati alla musica tonale non siamo più in grado di seguire. La chiamiamo armonica. La chiamiamo, si chiama musica dodecafonica o musica seriale anche. Musica seriale perché tu dovevi completare la serie dei suoni in modo che nessuno si ripetesse troppe volte. Comunque era tutta una tecnica molto studiata e molto poco, diciamo, all'impronta. Dopodiché sappiamo che il legame con la musica, tra musica e pittura, è particolarmente forte e viene da queste cose qua. No, probabilmente quell'intuizione di quando tu crei qualcosa, se tu guardi una cosa che non c'entra niente con quello che devi creare, e ti dà l'intuizione che poi trasferisci... Eh, quando ce lo dicevano che nell'arte non c'è niente di nuovo. Tutto non c'è niente di nuovo. Viene da un'intuizione di qualcosa che guardi. Che o senti, o senti. o percepisci che non per forza riguarda il tuo settore. Quella cosa in questo qua, in caso la pittura. Ma può venire dalla musica, puoi guardare un, non so, il potare il grano, il tagliare in grano. Sì, sì, no, nel senso che... Ti dà, passa un'emozione che ti dà un'intuizione. L'emozione viene dalla mente, viene dalla mente. Ma tutto viene dalla mente. Per cui, non so, per esempio, io dico questo. Io sento una canzone di Natale e piango. Allora no? Io mi vieno a piangere. Ma non ti ho mai visto una canzone. Ma sì, ma ho anche telefonato una volta. E ti ho detto, ma perché piangi? Non lo so. C'era una canzone alla radio. Ti ricordi che te l'avevo letto? Per cui, a me mi muove qualcosa, più la musica che l'immagine. Beh, la musica è una cosa che oltre che visivamente osserva. Le percezioni arrivano tutte alla mente. E' il cervello che può fare. Sì, sì, sì. No, beh, certo. Per cui lui faceva una pittura, mi schiamava il libro? Allora, il primo libro è del 1911, lo spirituale nell'arte. Eh, lo spirituale nell'arte vuol dire che lo spirito si muove a seconda di quello che vede. Sì, allora, lì, vabbè, il libro, a detta stessa anche di Ernst Gombrich, che è uno dei grandi teorici, dei grandi storici dell'arte, ne parla di un libro un po' confuso in alcuni punti. E in effetti non è che sia un libro scritturato, è un libro che è molto misticheggiante, se vogliamo, no? Infatti lui era molto attirato anche dall'universo spirituale, tanto che lui aderisce alla teosofia, che era un movimento in cui la spiritualità era molto potente, no? Quello che ti dice c'è qualcosa oltre la realtà? Sì, però vabbè, questo te lo dice qualsiasi religione, no? La teosofia era... C'è qualcosa dietro al reale. E quindi c'è una dimensione un po' mistica che permea questi suoi libri e quindi li rende anche a volte un po' poco chiari. Però poi c'è dentro anche delle cose molto specifiche, tipo le associazioni che lui fa tra forme, colori e caratteristiche, no? Lui ad esempio dà delle caratteristiche a certi colori e li associa ai suoni che possono avere e a degli stati emotivi. Quindi associa ad esempio il giallo, diciamo, colore squillante e si associa bene alla forma del triangolo e questo porta a una sensazione di attivezza, di tensione. Mentre il blu, ad esempio, associato al quadrato, è una situazione più statica e così via. Un studio anche di psicologico, in stanza, la psicologia dei colori. Sì, questo gli derivava sia dal suo interesse per la musica, per cui lui associava le forme, colori alla musica, allora a quel punto viene quasi naturale trovare superflua la figura, no? Nel quadri, ci sono queste cose qui che suscitano le stesse emozioni che può suscitarmi un soggetto figurativo. E quindi a quel punto io non ho più l'esigenza di dipingere un soggetto. Posso solo affidarmi anche alle forme, ai colori puri. Cioè, per esempio, piuttosto che vedere la Madonna col bambinino, ti creo delle forme, dei colori che ti porta all'emozione di guardare la Madonna col bambino? Sì, sì. E lui, ricordiamo, che viene da un'esperienza figurativa. I suoi primi quadri sono figurativi. Però troviamo che via via lui si discosta dalla pura figurazione tipica dei quadri ottocenteschi e si porta via via... Che comunque non era un affigurativo, era comunque che veniva dall'impressionismo, giusto? Beh, se tu vedi già questo quadro del 1906, di intorno di Parigi, è ancora un quadro abbastanza figurativo. Si riconoscono delle forme. Come i colori sono quelli giusti, diciamo, tra virgolette. Poi ci sono quadri come questo, che è la vita variopinta, che è un quadro del 1907, un anno dopo. Siamo già su un utilizzo dei colori che è molto più particolare, no? Qui troviamo ancora delle figurazioni che riportano tutta la cultura russa. Ci sono tanti... Ci sono molte... Cioè, queste qui sono tutte figurazioni che sono tipiche della cultura russa. Questa è la roba che mi piace di meno. Nella direzione impressionista da una parte, che dicevamo che è stato uno dei suoi punti di riferimento, con Monet, eccetera. Ma l'altro punto di riferimento, invece, era la pittura fauve, che era quella che si sviluppa a Parigi con Matisse e con... Che ha questi puntini? No, i puntini sono quelli dell'impressionismo. Il fauve, invece, era, diciamo, un pre-espressionismo in cui era importante i colori molto saturi, una sorta di... Perché si chiamava un fauve? Il fauve sarebbero le belve, no? La traduzione. Perché era una specie di pittura ancora che cercava l'essere primitivo, no? La forza primitiva. E da lì Kandinsky prenderà e fonderà insieme... Qui siamo a Monaco, ricordiamoci. Lui conosce la sua... Quella che diventerà la sua compagna, Gabrielle Münter, con cui fonderà insieme a Franz Marc il movimento del Bauerreiter, che è il Cavaliere Azzurro, che era questo movimento ancora abbastanza vicino all'espressionismo, ma subito dopo l'abbandonerà la figurazione e entrerà nel vero e proprio astrattismo. Per cui è transitato dall'impressionismo all'espressionismo per arrivare... Allora, è transitato, non è la parola giusta, perché è transitato, possiamo... È stato un studio, no? Per arrivare... Transitato, possiamo dire, dell'espressionismo sicuramente. Lui è stato anti-espressionista, non è stato impressionista, nel senso che è stato influenzato, ma non possiamo dire che è stato... Quindi arriviamo al 1910, il primo acquarello, che poi abbiamo già detto nel video scorso, che è stato retrodattato probabilmente di qualche anno dopo, però quello è considerato il primo passo verso l'astrattismo. E 1911, il primo libro dello spirituale nell'arte, in cui teorizza tutte queste cose che abbiamo detto, colori, forme, musica, eccetera, e poi comincerà una serie di composizioni che andranno invece nella direzione dell'arte astratta. E allora lì abbandonerà del tutto la figurazione che a volte all'inizio tornerà ancora in alcuni particolari, non riconosciamo ancora alcune cose, però poi andrà verso le forme pure. Allora, verso gli anni 30, lui sarà anche docente al Bauhaus. E al Bauhaus cosa succede? Che conosce alcuni dei personaggi più influenti di quel periodo, che saranno l'architetto Gropius, che è il fondatore del Bauhaus, e soprattutto quello che diventerà suo amico, Paul Klee. Paul Klee è un altro di quei che seguirà un po' la sua strada, anche se poi prenderà una strada tutta sua, tutta particolare, e poi anche Klee è uno di quei pittori che piace molto. Dopodiché lui fa una serie di composizioni, Kandinsky, che sono, la maggior parte dei titoli delle sue opere, sono come composizioni numerate, uno, due, tre, quattro, impressioni e improvvisazioni, proprio per segnare, intanto, il non voler dare un titolo che porti a una figurazione, che sarebbe la cosa sbagliata per affrontare i suoi quadri, ma soprattutto per tenere vivo questo legame con la musica, che per lui era così importante. 1925 arriva al secondo testo, Punto linea superficie, dove lui fa, anche lì, se sul spirituale e nell'arte si era concentrato sulla potenza dei colori, qui si concentra sulla potenza delle forme, in particolare le forme elementari, che sono appunto il punto, la linea e il piano. Che passano alle persone che lo guardano un'emozione, uno stato d'animo, diciamo. Sì, sì. E che gli servono poi per dare consistenza alle sue opere. Però anche questo che dici che comunque sono sfondatore di questa corrente importante, di questa forma d'arte, perché non è una corrente importante, è comunque una persona che stava bene economicamente, come Picasso, che è stato un altro che ha portato avanti una forma d'arte, una corrente, come il cubismo importante, è una persona che stava bene economicamente. Un altro famosissimo... Ma no, Picasso è... Che era da lì, che comunque veniva dalla famiglia ricca, anche lui. Modigliani mi sembra di me. Ma infatti è morto povero. Modigliani è molto povero. Cioè è diventato ricco poi, ma è morto povero. Ah, ma lei si è non considerato in vita? No, è diventato ricco mai. No, poi la famiglia, no? Non lui, però... Ma appunto. Sì, sì. Quindi queste quanti invece che non hanno neanche sviluppato ne avrebbero avuto tutte le capacità. Eh, vabbè, però la storia si fa su delle cose successe, su quelle non successe non si sa. No, comunque, adesso tornando a Kandinsky, la sua importanza è poi anche l'insegnamento che lui ha dato a livello di... per esempio all'interno del Bauhaus, no? Tuia, beh, era insegnante di pittura. Il Bauhaus era una grande scuola che metteva insieme tutte le arti dall'architettura al design. Il design nasce lì. era smantellata dal nazismo. Eh, era smantellata dal nazismo se si è trasferita in America. Poi, comunque, vabbè, l'insegnamento che ha lasciato il Bauhaus è importante per tutti, perché, dice anche tu, nel tuo lavoro, forse qualche insegnamento un po', se non proprio da Kandinsky, comunque da quel mondo lì in cui è importante in una composizione trovare... Spiegaci un po' questa cosa. Beh, questa cosa qui che io ho cercato... Quando io ho cercato di capire questo Kandinsky e è venuta fuori la storia sulle forme e sui colori, è una cosa che è capitata anche a me nel mio studio, cioè una composizione coloreale dipende dal tipo di fiori più simetriche. Alcuni hanno bisogno di emergere, per cui quelli saranno più in alto nella composizione, altri invece no, saranno più in basso. e questo darà forma ad una composizione. Beh, quindi anche qui c'è una gerarchia tra forme e colori... Esatto, c'è una gerarchia. Alcuni hanno bisogno di emergere perché hanno una forma e una direzionalità attiva, altri passiva. Quindi, vedi, questo può dirsi un insegnamento che arriva da quel mondo lì, no? Da queste cose qua. E forse, certe intuizioni che abbiamo sul design, eccetera. Alcuni hanno bisogno di affermarsi, è un'affermazione maggiore di altri, invece hanno bisogno di affermarsi in modo più basso. Sì. Vabbè, c'è un aneddoto che non abbiamo raccontato, abbastanza carino, che è come lui... Adesso non ho capito bene quanto sia del tutto come ve la sto raccontando, però magari c'è un po' di romanzato. Però, grosso modo, come lui arriva all'intuizione dell'arte astratta. Lui, dopo una passeggiata, rientra nel suo studio e vede un quadro che lo colpisce particolarmente, no? Si avvicina e si rende conto che quello è un suo quadro, però lui non lo riconosce subito. L'ho dipinto io! Sì, dice, l'ho dipinto io, però si rende conto che la donna delle pulizie, nel fare le pulizie, l'ha messo, riposta al contrario. E allora lui si rende conto come sia suggestivo, anche senza riconoscere le figure, vedere la composizione, i rapporti tra le forme e i colori. E allora è lì che ha, si dice, questa intuizione di spingersi verso l'abbandono della figurazione. Ecco, vabbè, questo è un aneddoto carino. Bene, ti salutiamo, ti salutiamo, alla prossima! Alla prossima! Ciao! Ciao!